Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Minecraft della Pogetoso 3 Bene, cosa facciamo oggi? Visto che mi avete chiesto come si fa a fare l'autocrafting di cose complesse come leghe o provenienti da macchinari particolari che hanno bisogno di due più item vi farò vedere, esaudendo la vostra richiesta, come si fa quindi ho fatto un sangue da capo perché l'ho perso rompendolo, appunto posso riempirla e ho preso il mio alloy che avevo già prima e ci serviranno i cami flu X, import bus e sport bus e poi altro adesso faremo con il camo, passo passo vi spiego tutto allora togliamo questo che per adesso non serve e mettiamo, non importa dove, tanto farà tutto quanto in automatico io posso metterli anche qua, che mi impedisce di fare diverso quindi questo facciamo così, questo facciamo così ok, adesso vediamo quanto spazio, forse, oddio, ne ho bisogno di un po' più di spazio effettivamente, adesso ho fatto lo sprovaldo, ma ecco qua allora, colleghiamo il nostro flux allora, cosa ci va? Il flux più di tutto ok, ho messo a posto un'altra fama, dopo vi farò vedere, con calma cercherò di spiegarvi tutto e abbiate pazienza se mi dimentico qualcosa, sono vecchio, la mia età è normale, che succede una roba del genere se ne ho fatta così, diciamo sì, allora, scusate che devo mettere a posto, non dormo la notte eccoci qua, mettiamo la mondezza qua, poi dopo vediamo come fare ho preparato delle ricette che adesso vi faccio vedere allora, cosa voglio fare? Voglio fare l'autocrafting e poi potenziarlo quindi vi faccio vedere le due cose adesso incominciamo con le cose basiche allora, incominciamo con l'alloy smelter che permette di fare leghe e altre cose sia una fornace che una creazione di leghe, va bene? Ok allora, mettiamo il nostro flux attaccato al sistema in questo caso io ho questo tipo di sistema qui che abbiamo già visto che cosa è? Oh, c'è la voglia, stiamo cadendolo e posso attaccarlo dove cazzo? Mi pare anche a quello, volendo, che poi alla fine è la stessa cosa perché se io attacco sotto, a meno che qui non ci metta il coso e ce lo metterò, perché a me piace mettere queste cose e quindi facciamo Applied quell'Anchor, ecco, scusate, non mi veniva in mente come si chiamasse? Ecco qua, noi facciamo così che andiamo a separare la possibilità di mettere un cavo e quindi noi andiamo, cosa facciamo? Mettiamo un cavo direttamente qua è anche un Anchor, ma mettiamo anche un altro Anchor va, che è meglio così a meno siamo tutti più tranquilli no, che se lo metto qua vado a deficitare no, non posso farci un cazzo, niente Anchor scusate, ho detto una caccata mia qui purtroppo per forza andiamo sia lì che là vabbè, pazienza e siamo a posto e facciamo così, guardate e non va a cosare ovviamente io sono un pirla e va a attaccare perché io se non faccio caccate quindi l'acqua serviva e vabbè, sono fatto così mi tenete per come sono io non voglio che si attacchi a nulla attaccati a questo pilone insomma, eccoci qua siamo a posto ecco qua, così lui è singolo e va a prendere l'alimentazione solo da una parte da due veramente perché io sono due volte pirla vabbè, comunque sia anche se mettevo l'ancor qua non aveva senso perché dopo non potevo comunque usare quella facciata quindi tanto male che lo prenderà là adesso qui cosa ci andrà? qui ci metterò l'alloy ovviamente ma con l'alloy è basta non facciamo un cazzo bisogna vedere se l'alloy è possibile inserire da sotto allora cosa voglio? fa, sì qui deve essere due insert deve avere l'alloy perché effettivamente devono entrare due o più cose e sarebbe meglio tre insert quindi uno da sotto uno dall'alto uno da sopra ok va bene quindi cosa facciamo? facciamo intanto un esportatore cosa vuol dire esportatore? che mi esporterà dal sistema direttamente all'item che io gli dirò direttamente al macchinario in questo caso macchinario associato cioè messo sopra quindi io vado a mettere un export qua ok però ovviamente non così ma diversamente perché così è puntato nella lezione sbagliata come al solito io sbaglio sempre tutto allora mettiamoci in modo che riesco a fare ma no facciamo così va lo metto così tanto lui non si attacca non ho problemi lo metto mi serve il cavo però e l'ancor me l'hai mangiato piuttosto ma porca vacca ok mettiamoci sopra l'alloi sto cercando di far mentre lo calo avete pazienza allora mettere l'alloi senza fare una figura di merda ho paura che sarà molto dura riuscirci a non farla e quindi facciamo una cosa un pochino ecco così almeno sono sicuro che lo metterò giusto tac oh e questa è una adesso se noi andiamo a vedere di qua ok non mi non mi oh ma salve e qui come è possibile una cosa del genere mi ero dimenticato di questo piccolo particolaro li devo togliere se non mi fa mi crea entità e magari quando attiverò la mob farm mi dà problemi quindi aspettate un secondo che tolgo sta roba e nemmeno proprio dimenticato di questo piccolo dettaglio ok questa è venuta adesso non mi vedono ovviamente ed è una passeggiata però è meglio toglierli dai marroni perché possiamo luce grazie ecco qua che bello quando ci vedono ok salve è stato un piacere arrivederci lei è molto bello ok a meno ci siamo tolti ecco io scusate ma purtroppo sono fatto così c'è una pirla ci sono tutti allora ritorniamo su scusate piccolo defiance ritorniamo al nostro che purtroppo nel volo e ha quel problema li devi attivarlo ogni volta è un casino ma facciamo così senza far casino allora stavamo dicendo eccolo qua dobbiamo metterci l'esport tac ecco adesso scusate adesso da qui diciamo cosa deve entrare nell'apply perché insomma è un casino altrimenti sennò lui non fa in modo che entri un cazzo di niente scusate ma devo togliere un po' di roba se no non ci sto dietro ecco qua dobbiamo dirgli cosa allora questo è un problema se no facciamo in modo diverso ho un'idea un po' disloca però potrebbe funzionare arrivo ok ho cercato di rendere tutto il più semplice possibile adesso vi spiego ho messo un interface così qui ho messo gli add-on e le ricette allora l'interface si può mettere anche così come ho fatto qui è che è la versione più piccola non cambia assolutamente niente si crafta così con quella interface normale che si crafta così che si crafta così così che abbiamo tante le abbiamo già viste queste cose e poi dopo diventa diventa molto semplicemente così mettendola nella crafting table e diventa sottile quindi si può attaccare al cavo io l'ho messo lì è uguale non cambia assolutamente niente e gli ho messo un 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 import sopra è un import sopra ok è sotto e dietro scusate ho provato a fare una ricetta così almeno per vedere se funzionava esatto l'alloy e funziona benissimo allora così facendo noi basta che facciamo le ricette e funzioneranno vi faccio vedere una ricetta adesso ho fatto l'alloy ma posso fare qualsiasi altra cosa volessi fare il vibrant ad esempio noi andiamo qua nella plaid della me pattern terminal selezioniamo quello che vogliamo fare creare spingiamo la r e poi andiamo sull'alloy in questo caso qui e vogliamo creare questo qua ok allora in questo caso io ho già la ricetta per questo ma se volessi creare anche ovviamente devo creare tutto lo storico per arrivare a questo adesso anche le enderpearl abbiamo la farm però le enderpearl si possono creare tramite adesso non l'abbiamo all'emmè la progetti o questi item che si prendono comunque la more farm la more farm comunque ci da quelli insomma c'è oppure tramite quelli quindi avremmo creato una ricetta apposta ma mettiamo che noi ce l'abbiamo già perché abbiamo fatto a questo punto la more farm e dobbiamo creare solo questo spingiamo qua lui creerà selezionando questa mi raccomando selezionate questo se no non lo fa creiamo la ricetta l'andiamo a mettere nella relativa e adesso troviamo alloi smelter prendiamo la ricetta la mettiamo qua andiamo a vedere le rendere a io la ricetta per usare questo crafting ed è questo gli facciamo 10 gli andiamo a provare e gli dice cosa ci manca in questo caso abbiamo tutto mi dice tutto avviabile e questo è crafting quindi lui andrà a prendere questi che già abbiamo se no lui li creava perché avevamo le ricette e va a craftare questo passandolo dall'alloi quindi start e noi andiamo a vedere l'alloi esatto sta funzionando vedete così è automatizzato lui entrerà dall'import quello che gli abbiamo detto due item e il terzo lo fa uscire dall'interface ok il problema è che questo ha bisogno anche di un terzo nel caso non volessimo usarlo quindi cosa facciamo dobbiamo semplicemente mettere un altro import un altro import bus che si fa così e glielo mettiamo a lato qua adesso io non ho l'esigenza per adesso di fare queste ricette però se volete e avete la necessità di fare crafting a tre gli mettete un'altra di queste qua con il cavo che passa lì e tanti saluti a tutti molto semplicemente se volete fare una cosa un po' più carina gli mettete l'interface quella sottile e tanti saluti è il modo più rapido è anche più facile non dovete sbattervi non dovete fare niente dovete fare solo la ricetta tanti saluti a tutti qui chiudiamo con una fasade che abbiamo senza problemi vi faccio vedere applied così almeno abbiamo automatizzato anche questo dove cazzo è fasade eccola qua la chiudiamo così ovviamente io non sono capace a mettere le fasade purtroppo è un mio problema lo riconosco ci avete per pazienza dove cazzo è finita il problema è che non le vedo neanche comunque sia amen troverò il metodo ok ce l'ho fatto bisogna cliccare lì adesso lo so adesso purtroppo rompiamo quello rompiamo che cavo vero? infatti sei uno strozzo che ci vuoi fare? ecco qua bisogna avere pazienza con me ragazzi io purtroppo sono fatto così ecco qua ok e adesso siamo a posto abbiamo chiuso il debito è fatto adesso funziona senza nessun problemi e abbiamo automatizzato le ricette che ovviamente dobbiamo fare le ricette mi raccomando fatele io ho messo le solite card per aumentare il ricettario che è questa la parte di stand-on card grazie a questa avremo più pezzi quindi insomma non è male non è male per niente scusate ho fatto la bicacata ma adesso dobbiamo automatizzare anche stessa cosa per l'alloy cioè per il dove cazzo è finito per il sag mil non cambia assolutamente un casso di niente quindi cosa facciamo possiamo provare a fare un pochino più compatto adesso se mettete il coso qua o di là insomma mettete come vi pare e mettete alla destra o alla sinistra non ci va ma io in questo caso non ho problemi e andrò a mettere un altro interface qua che dopo ovviamente dobbiamo collegare santa miseria dobbiamo vogliono dobbiamo collegare con un cazzo di cao ma scusate allora l'interface ne ho già un po' quindi ne prendiamo una la mettiamo così vi faccio vedere da zero non vi preoccupate che vi spiego sempre tutto mettiamola qua ok questo è un interface che vedete mi mancano le card allora andiamo a prendere le card che ho già fatto che sono due ovviamente non bastano perché io non so mai contare sono fatto così ecco qua le andiamo a mettere dentro così vedete passo passo non vi preoccupate che intanto vi spiego sempre tutto perfetto queste sono le nuove cose queste dopo la config vi spiegherò e questa è la priorità che adesso non serve adesso ci andiamo a mettere il sag 1000 rimettiamo anche questo così siamo a posto ovviamente questo gli manca l'elettricità allora per avviare questo problema qua c'è effettivamente un modo l'ender.io permette di fare dei cavi elettrici compatibili con l'applied allora io adesso li posso fare ve li posso fare anche vedere e non c'è problema però a livello che siamo noi li mettiamo il chaparì il chaparà e tante salute tutti qua è insomma nel senso però volendo adesso li faccio li faccio vedere allora i cavi compatibili con l'ender.io sono molto semplicemente energy eccoli qua quelli compatibili con l'ender.io sono colori particolari che devo trovare attimo un secondo ed eccoli qua sono le me conduit le me conduit fanno quello che fanno i conduit normale ma sono compatibili con i cavi quindi è possibile metterli sopra a quelli dell'applied ecco andiamo a farli dovrebbe essere molto semplice facciamo quelli basici perché noi abbiamo quelli basici qui e quindi attacchiamo quello gli andiamo a mettere facciamo uno scavo in modo che sia che cazzo molto compatibile vedete non si attacca ovviamente non si attacca perché questa non è una cosa che va attaccata lì ovviamente ma noi l'attacchiamo qua e ci sbattiamo i cocomeri e siamo a postolo ho fatto un casino della madonna come di solito ma io ma perché faccio sempre casino allora il volevo metterlo qua ce la posso fare state tranquilli che ce la posso fare scusate sono vecchio e ricoglionito e ecco qua gli abbiamo dato in teoria a livello teorico dove deve passare vediamo se è vero non riesco a arrivarci allora vediamo fatemi fare un attimo di prove e niente scusate in questa versione non è possibile farlo purtroppo giocai a una che era possibile farlo effettivamente era un addon che qui non c'è e quindi scusatemi tanto non avevo fatto conto di considerato questo va bene non importa gli ho messo il ciaparino e tanti saluti potevo metterci anche se vogliamo fare una cosa fatta meglio ma si facciamo una cosa fatta meglio che cazzo facciamo una cosa fatta male e porca vacca no no facciamo una cosa fatta bene facciamo un bel autocrafting di un vibran capacitor così lo mettiamo là così è anche più bello tanto ci mettiamo proprio un secondo a farlo vedete è proprio un attico dove cazzo me l'hai messo qua così togliamo il ciaparino e il ciaparino lo mettiamo in mezzo e così questo qui va alimentato senza problemi tac gli mettiamo questo qua qua col ciaparino ciaparino qua e quindi andrà a alimentare tutti e due senza problemi non abbiamo neanche problemi di dover mettere due spazi che non li abbiamo perfetti dai così siamo a posto gli mettiamo scusatemi ancora ma la colpa è stata mia non mi sono informato adeguatamente vabbè comunque adesso l'ho messo mettiamo l'alloy l'ho messo così con l'interfaccia sotto come ho fatto prima con i pezzi qua e andiamo a mettere gli EME in port che abbiamo già visto come si fanno qua e qua e attacchiamo i due pezzi qua perfetto dopo gli mettiamo le fasate che come al solito non sarò capace a mettere e siamo a posto era così ok festeggiamo una festa grande insomma sì qui posso chiudere ma non mi interessa e siamo a posto ma che bello ragazzi che bello e quindi noi andiamo a mettere una ricetta che io ho già preparato che ho già preparato sì l'ho già preparata ok lo andiamo a cancellare qua adesso dovremmo trovare il nuovo pezzo se non ho fatto una cacata Zenit Fornese e Sag Meal ok il pezzo che io ho preparato è questo qua se non sbaglio che è una ricetta composta adesso mettiamo anche le ricette normali scusate sempre qua non nello smettere ma nelle molecole l'assemble è normale che io ho preparato queste ricette vi faccio vedere come creare questo come creare questo che è una cosa composta che ci vorrà in un crafting come creare questo che è sempre composto e tutta questa roba qua adesso andiamo a vedere ve la faccio vedere pezzo per pezzo non vi preoccupate che vi spiego tutto adesso vi ho fatto vedere le ricette che dato le abbiamo già viste come si creano insomma risparmiamo un po' di tempo così non va a noio allora cosa dobbiamo andare a fare prima di tutto vediamo se funziona e per vedere se funziona dobbiamo semplicemente fare una cosa così questa qui dunque se ve la faccio vedere è per creare questo ciapparì ciapparà questo blend qua questo blend qua qui per creare questo vedete che va nel sag meal io ho messo la ricetta per crearlo che si fa dal pulsating airong quindi ho fatto la ricetta dal pulsating airong che dall'ingotto che noi abbiamo la farm se no facevo proprio l'alloy ma dato che noi abbiamo la farm di pulsating airong io non sono andato a fare anche la ricetta perché se noi scriviamo pulsating airong ne abbiamo 2000 passa e la farm è qua allora noi in questo caso abbiamo la farm di della della mistica di calcio quindi volendo potrei far così vi faccio vedere così almeno ve lo faccio vedere e siamo a posto pulsating airong scriviamo pulsating airong così un recatto veloce il pulsating airong noi oddio scusate R sopra c'è vari modi per farlo l'alloy uno di questi ma noi vogliamo fare questi quindi noi qui colchiamo sul crafting ok e andiamo qua e gli diciamo di fare questo crafting qui se vogliamo fare abbiamo la mistica di calcio quindi nel caso lui lo finisca abbiamo da metterglielo senza problemi da rifacillarlo nel caso avessimo voluto fare l'autocrafting composto dall'alloy avremmo dovuto cliccare qua avremmo dovuto cliccare R qua avremmo dovuto cliccare sull'alloy e cliccare qua e dopo avremmo fatto l'SP ok quindi lui dopo sceglierà se fare uno o l'altro adesso in questo caso io non lo faccio e siamo tutti a posto scusate ho dovuto dirvelo così almeno siamo a posto e non abbiamo più problemi allora io dicevo devi fare questo brand qua devi fare questo brand qua c'era questa cosa qua quindi abbiamo messo già come fare questo e gli alloi gli ho detto come fare questo che lui me lo deve alloiare far diventare questa polverina qui quindi se io faccio il crafting di questo qua in teoria a livello teorico lui deve funzionare quindi facciamo 10 20 uguale start vedete lui dice che ha bisogno di questo che ha bisogno di questo che ha bisogno di questo che crafterà e crafterà questo qua ok andiamo a vedere se è vero e la donna ah ecco adesso stava caricando e sta facendo vedete funziona quindi il crafting composto da più operazioni va adesso cosa facciamo dobbiamo fare prima di tutto il blend perché noi non abbiamo il blend e vediamo insieme come si fa come si fa a fare questo blend qua che è diverso da quell'altro che avevamo si fa con questo che abbiamo fatto vi ho fatto vedere adesso ma dopo c'è questo che abbiamo già perché questa è la farm che abbiamo a fare di questi e c'è questo da fare questo qui si fa nell'alloy che si fa con il polverizz coal che io noi il crusher coal lo dobbiamo fare se lo trovo nel sag mill ok prendiamo no il cerco io vorrei il coal normale quindi andiamo a creare la qui e scriviamo appunto il caro e nostro vecchio coal e lo andiamo a vedere il pulverized che è il crushed il pulverized mi sembra si chiami esatto pulverized coal scusate spingiamo la R qui sopra e andiamo a vedere la ricetta per il nostro sag mill ok ed è se la trovo anche col blocco oddio potevamo fare il blocco che facevamo prima per carità perché se no mi va a creare un casino effettivamente è vero così mi crea solo quello e siamo a posto mi va a creare cose collaterali e adesso dobbiamo dirgli la ricetta di questo perché ovviamente non ce l'abbiamo facciamo così e facciamo così e almeno siamo a posto vedete tutto semplicissimo una volta che sappiamo come fare quindi nel lois melter scusate nel sag mill dobbiamo mettergli questo questa ricetta qui per creare questo pulverized ok una volta fatto questo dobbiamo dirgli anche come creare il blocco che è una cretinata intanto l'abbiamo fatto e glielo mettiamo qua ok mi raccomando è importante che tutto vada allocato nel posto giusto se no e selezionare le cose giuste se no dopo lui fa casino quindi adesso noi questo è il graphic comporto quindi cercate di seguirmi è la sua che è complesso cercherò di farlo più semplice possibile noi adesso dobbiamo dirgli di creare questo e come si chiama scusate ok mi devo ricordare avete pazienza creiamo qua andiamo a sfiggere qua andiamo qua e selezioniamo questo selezioniamo questo e selezioniamo questo quindi noi dice che la pulverized coal è la slime che ne abbiamo un sacco allora la slime abbiamo sia la farm che comunque no però quindi noi facciamo perché dobbiamo essere sicuri che gli item che gli servono li abbia tutti in un modo o in un altro quindi cosa diciamo diciamo come fare la slime la slime come si fa la slime noi abbiamo la farm che ci permette di ci agevola molto la cosa quindi è questa qui quindi adesso prendo una slime come port e vedo un po' quanti ne ho nell'applied perché io non me lo ricordo mica più fate pazienza ne ho zero quindi non c'ho la fame quindi non è alimentata allora però adesso non la faccio comunque la farò e vi dico dove la metto così dopo siamo a posto la metto qua perché ho messo già il posto per farlo però non ho avuto tempo metterò qua con un altro ciaparì ciaparà e vedete qui ho messo quello della mystical della flower così tutti i fiori tutti i dagli ho già pronti e l'ho messo là farò la stessa cosa le metto qua per lo slime poi lo vado a mettere qua così andrà direttamente nel nostro applied e dopo adesso la ricetta la possiamo creare lo stesso insieme non c'è problema tanto è un attimo li diciamo così li diciamo così dopo lo metterò adesso non c'è là ovviamente e siamo a posto quindi 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 dovevo dirgli di mettere questo ok nel posto locato che il sag mill perché no il sag mill era nel nel scusate la roba è tanta era qua nella noise matter perché comunque è una cosa è un blend fatemi vedere se non dico cacate perché sono vecchio esatto nella noise matter deve andare questo che diventa questo quindi dovrebbe essere giusto probabilmente non lo è perché c'era già e io l'avevo già messo che sono un coglione scusate l'avevo preparato vabbè ve l'ho fatto vedere siamo a posto dai non vi preoccupate sono vecchio mamma mia che bisogno di me no scusate ok proviamo a farlo e siamo a posto allora spieghiamo anzi proviamo dal dal wifi ender e abbiamo questo crafting composto dove cazzo è finito questo blender adesso ne avevo un po' io lo so però siccome mettiamo caso che non ne avessi se lo cerco lo trovo l'ho perso eccolo qua proviamo nei 10 e vediamo se funziona lui dice che vediamo questo questo e quest'altro e farà quello vediamo se è vero l'ha creato allora ender la sta creando vedete che lo sta creando 8, 9, 10 perfetto funziona tutto quanto alla perfezione fatica però nel caso noi volessimo fare una produzione più bassiccia vediamo un po' 1000 craft ok aspettate un attico voglio farvi vedere essere sicuro che non ne abbia un po' da parte craft 30 allora ne ha da fare 10 craft start e vediamo un po' se qua scusate qua è diventare qua esatto lo sta facendo vedete senza nessun problema ok quindi funziona tutto quanto senza nessun problema quindi adesso noi cosa dobbiamo fare dopo tutto questo dobbiamo fare questo ok per fare questo noi dobbiamo andare a vedere qua se ce lo fa vediamo un po' vedete lo ha accettato e lo ha fatto perfetto adesso che abbiamo fatto dobbiamo dirgli che col blend perché noi il blend non abbiamo finito di fare il blend come si fa si fa così quindi noi dobbiamo andare a dire che me lo cuoce ha finito quindi la cottura finita di questo è questo ok quindi adesso noi gli diciamo di qua di farmi questo ok con l'alloy diciamo alloy scusate alloy gli diciamo R su questo selezioniamo alloy facciamo così facciamo così e lo andiamo a mettere nell'alloy e ce l'abbiamo fatta ragazzi non ci credo che travaglio è stato ed è quello ovviamente l'avevo già preparato l'avevo dimenticato è che sono un pirla è ok è quello nuovo che vuoi cazzo è finito ed è questo proviamo a farne uno ok start e dovrebbe partire e l'ha fatto mamma mia che travaglio e ce l'abbiamo fatta abbiamo la base per poter dopo fare quelli potenziati perfetto mamma mia non mi sembra vero quindi cosa faremo romperò questo lo prenderò e ci metterò per fare il crafting di quello nuovo così fatto quello abbiamo quello nuovo che vado semplicemente a sostituire senza cambiare niente perché lui lo vede comunque come alloy e siamo tutti a posto ragazzi spero di esservi di essere stato il più chiaro possibile scusate se ho avuto dei problemi ma pensavo di avere una moda che non avevo quindi dopo lì è tutto basato su quello e ho fatto degli errori perdonatevi comunque il video vi ho fatto vedere lo stesso passo passo come a far tutto e quindi state tranquilli ragazzi come al solito vi invito se non dà anche il commento se vi piace a serie farvi sapere cosa pensate vi saluto e saluto ciao ciao